Altro settore importante per la nostra economia è il turismo. L'Europa si avvia verso la bocciatura della legge italiana che prolunga le concessioni demaniali marittime al 2020. Intanto però la Sicilia decide l'apertura tutto l'anno degli impianti balneari. Vediamo. Mare tutto l'anno, la politica supera i veti degli ambientalisti e rilancia le spiagge come vera risorsa economica della Sicilia. Sì, perché da oggi le strutture balneari potranno rimanere per te sempre e non solo nei quattro mesi estivi. Lo ha deciso l'Assemblea regionale siciliana che dopo anni di dibattito ha approvato nella legge finanziaria una norma che dà il via libera all'utilizzo tutto l'anno di una delle risorse più belle della Sicilia, il mare. Influisce i turisti a venire con più animo in questo splendido posto. Siamo fortunati e non sfruttiamo bene questa spiaggia. Sarebbe giusto sia per i cittadini che per gli stessi imprenditori dei Lidi che potrebbero lavorare tutto l'anno. Visto che il sole noi l'abbiamo e diciamo che il guadagno si basa anche su questo. Abbiamo un bene e dobbiamo sfruttarlo. Contenti i turisti e i solani, convinti che proprio da qui possa partire una stagione di rilancio, ma contenti sono soprattutto i gestori dei Lidi che da anni chiedevano di introdurre questa norma. Sicuramente ne trae approfitto l'occupazione perché si mantengono posti di lavoro, l'utilizzo e le casse dello Stato perché lavorando di più, battendo scontini, lo Stato ne incassa le tasse. Siamo molto contenti di questo. L'importante è che il sistema turismo tutto lavori in questa direzione. E la conferma migliore forse per la nuova legge è l'immagine di quanti anche oggi pomeriggio a Mondello facevano il bagno. Com'è l'acqua? È bellissima e non si può dire che è molto fredda. Ma si può fare il bagno tutto l'anno qui in Sicilia? Sì, sì, è così.